io non posso credere a quello che cazzo ragazzi a quello che cazzo a quello che cazzo ho appena visto anche questa sera è un qualcosa di incredibile da amanti del calcio non solo da parte dei tifosi della juventus stasera stavamo aspettando questa partita per vedere gli esordi dei due nuovi acquisti di dusan vlaovic e de zagaria che cazzo hanno fatto stasera cosa cazzo hanno fatto ma soprattutto preparatevi ad un video sfogo al fantacalcio di quelli che voi non potete minimamente immaginare lo posso fare domani perché manca ancora una partita ma preparatevi regà non è possibile non è possibile sempre a me succedono ste cose e chiudo parentesi perché ci potreste 25 minuti ancazzamme su quella situazione ma ci saranno contenuti dedicati vi saluto immediatamente ciò è bello a tutti da me mi raccomando lasciate mi piace per supportare i miei contenuti soprattutto se domani volete il parere del buon fabio gli faccio esprimere il suo parere sulla juventus su napoli e parliamo in generale di tutta la situazione di classifica che si è venuta a creare in questa clamorosa giornata di serie a devo ripiaffiato sono vecchio non ce la va appena mi muovo iscrivetevi attivate la campanella così ogni volta che pubblico non vi perdete le notifiche ragazzi più del 40 per cento di voi non è iscritto a questo canale ma se guarda regolarmente i video però così ve li perdete regà se invece vi iscrivete attivate la campanella ogni volta che pubblico nell'esatto momento vi arriva la notifica sul cellulare in tempo reale e restate sempre aggiornati ho altri due canali youtube li trovate in descrizione durante il video compariranno qui allegri vlaovic sta ai livelli di mbappé di ala ma voi pensate che lo abbia detto così tanto per a prescinde se lo pensa o meno ragazzi strategia da parte di allegri alla josè murigno che carica a pallettoni il calciatore per non farlo steccare e che ha fatto il calciatore dodici minuti non che gli eservisse eh però sicuramente da parte dell'allenatore che c'ha questo tipo di esperienza che ha fatto le finali di champions che ha fatto che qualcosa ha vinto sicuramente a un calciatore di 21 anni che ne ha fatti l'altro ieri 22 un minimo te carica a pallettoni 12 minuti ragazzi miei però prima di arrivare lì entrerò nel merito dei singoli poi devo fare una breve analisi su alvaro morata perché mi sono reso conto di una cosa ragazzi poi magari è una mia percezione sarà un mio parere personale ma voglio esporvi quello che ho pensato durante la partita allora partiamo dalle assenze facciamo così e riordiniamo bene le idee perché lo faccio sempre ormai alla juventus mancavano alexandro bernardeschi chiesa devintare locatelli quindi sicuramente assenze importanti al verona però mancavano altrettanti giocatori importanti e scusate il gioco dei parole soprattutto il ciolito simeone mancava anche davidoviz fra botta e ongla ongla chiamatelo come vi pare simeone lo sappiamo no seppur negli ultimi periodi insomma sta steccando un pochino ma sarebbe stato un plus in più a torino contro la juventus chiusa parentesi modulo tridente raga per quanto se ne poteva parlare tridente non mi aspettavo le vede subito così immediatamente morata di bala e vlaovic là davanti no pensavo che magari allegri ci arrivasse con un po' più di calma no in maniera un po' più accorta invece no subito pim pur pim pum 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 pie li butta nella mischia ecco come stavano a giocare allora vlaovic vabbè terminale offensivo di riferimento morata dalla sinistra ma ogni tanto si accentrava insomma faceva un po' quello che voleva spaziava abbastanza anche lui sul fronte offensivo partendo dalla sinistra di bala che partiva più dalla destra ma sotto alcuni punti di vista in alcuni tratti ho visto quasi trequartista pronto a servire ad innescare le punte là davanti quindi un attacco a tre un po' atipico no un po' camaleontico se così vogliamo dire che non stava dando tanti punti di riferimento al verona mo c'è ritorno su morata ragazzi ma pure zaccaria dice uno lo deve vedere all'opera per capire quello che può dare quello che può dare a questa squadra si è messo subito in mostra ragazzi ma vi siete resi conto non solo il gol ma anche per come gioca ragazzi anche per la fase di interdizione che fa la fase di impostazione che fa e soprattutto anche la fase di inserimento per allegri centrocampisti in grado di tenere botta a livello fisico e capaci di inserirsi in quel modo gli fanno la differenza ovvio che questa è la prima partita anche un po' sperimentale no però partire così partire con il piede giusto con questi due nuovi acquisti ma quanto ti può dare soprattutto a livello mentale guardando quello che è successo nella classifica guardando quello che ha fatto l'Inter e in generale come si sta evolvendo la classifica anche quello che ha fatto l'Atalanta poi ripeto di questo domani ne entriremo più nel dettaglio con il buon Fabio parlo anche rapidamente del Verona perché ragazzi hanno fatto quello che potevano hanno provato a fare qualcosa in realtà ma questa Juventus con Vlaovic là davanti secondo me ragazzi sarà una seconda parte della stagione completamente diverso ci sta veramente poco da fa volevo esprimere anche un altro parere su Vlaovic il binomio è quello che ha detto Mbappea l'ho detto non mi ricordo però ragazzi questa ah ecco una cosa che mi hanno detto che mi ha detto una persona di cui mi fido e in parte ce credo Vlaovic avrebbe preso la 7 non perché è il numero più vicino al 9 gli è stato consigliato di farlo perché è una strategia anche a livello commerciale ma anche giusto che sia così se fosse vera una cosa del genere perché dal momento in cui segno che poi il paragono con Cristiano Ronaldo se fa in sacco di collo come li faceva lui alla Juventus regà a livello commerciale la maglietta con il numero 7 di Vlaovic che c'era Ronaldo vendete più piuttosto che lui voleva piasser 28 che ragiona il compleanno suo e chiudo parentesi non lo posso sapere se è vero ma ripeto me l'ha detto una persona di cui mi fido quindi era una semplice curiosità che aveva stuzzicato anche il mio interesse però a livello commerciale secondo me ne vendi molte di più di magliette e ok quanto vale attualmente Vlaovic dopo sta partita? già è salito il valore del mercato ragazzi la Juventus non dico che sia già quasi ripagato ma se dovessero realmente riuscire a mantenere la quarta posizione in classifica perché mi pare che ci sono arrivati fammi guardare la situazione di classifica perché vorrei di cazzate attualmente stanno quarti e l'Atalanta però c'è una partita in meno dovessero mantenere questa posizione di classifica ragazzi miei so so bello che ripagalo perché pure da quarti insomma l'entrata economica importante sarebbe per la Juventus ma in generale è un calciatore che ha 75 milioni di euro 21-22 anni se ti cominci a segnare così nel giro di poco vale veramente 150-200 milioni non che la volontà della Juventus sia quella di cedere a un calciatore di questo tipo però te li trovi sicuramente in valore che metti là in cassaforte e che ti può tornare utile in tutti i sensi e in tutte le situazioni pazzesco pazzesco io veramente sono esterefatto da questo cambio anche repentino da parte della Juventus che in realtà ha cambiato anche atteggiamento per evolversi con Vlaovic un calcio sicuramente più propositivo perché Vlaovic è uno che è molto più aggressivo ma ha bisogno anche del supporto degli attaccanti e qua torno a dire quello che non ho espresso a inizio video ma solo io ho avuto l'impressione che Allegri sta trasformando Alvaro Morata in Mandzukic nel Mandzukic della situazione ma l'avete visto sulla sinistra quando si andava a sacrificare scendeva per andare a recuperare i palloni io ho la netta impressione che invece che mette da parte Morata e rilegarlo in panchina solo come alternativa di Vlaovic poi dovranno rientrare Chiesa, Bernardeschi ci saranno calciatori o cui fa il tridente in un altro modo però l'esperimento di oggi ha funzionato e non vorrei ripeto che magari alla fine se Morata continua con queste prestazioni come l'ha fatta oggi giocando lì in quel ruolo ma scommettete che Chiappe lo riscattano veramente invece che restituirlo al mittente e gli fanno Falmanzukic della situazione ci ha fatto le fortune Allegri con quel Mandzukic vi ricorderete tutti che poi non era uno che segnava spesso la Juventus ma ha sempre fatto col decisivi in Champions e non in quel ruolo così io ve l'ho buttata là non voglio aggiungere altro perché poi di carne al fuoco ce ne sarà altra per parlarne con il buon Fabio fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti potrei parlare di De Sciglio potrei parlare della difesa potrei parlare di Danilo potrei parlare anche del centrocampo ne riparliamo domani mi piace, commentate, condividete iscrivetevi a tutti i canali i profili socializiali la chiudo qui